Non era a San Siro insieme ai 75.000 che hanno assistito a Inter-Juve ma Steven Jung ha esultato come fosse stato lì. L'autorete di Gatti ha deciso la sfida Scudetto e spinto il presidente Nerazzurro a festeggiare sui social con una storia su Instagram, Sfondo Nero, Stelline e la scritta, Amala. Il numero uno del club poi ha commentato un post di Akan Kalanoglu così, non abbiamo ancora finito. Lontano insomma, ma vicino. E se in campo la sua Inter vola, fuori la missione di Jung è più complicata. L'obiettivo è rifinanziare il prestito in scadenza. A fare il punto della situazione è la Gazzetta dello Sport. Come riporta il Quotidiano, il 20 maggio sarà la data X, quella in cui scade il termine per la restituzione di oltre 350 milioni, 275 più gli interessi, prestati dal fondo americano OCTRI. Il rifinanziamento è l'opzione preferita da Suning, ma per metterla a punto sarà difficile andare oltre la fine di questo mese, o poco più. Le alternative però non sono tante. La vendita del club è complicata. Il miliardo e 200 milioni di valutazione minima per acquistare a L e Inter hanno infatti frenato gli eventuali compratori. Lo stesso presidente non vuole concentrarsi sul breve periodo, anzi si vede al timone sul medio termine. Il ritorno in Italia per ora non è in programma. Giand non vede giocare dal vivo la sua creatura dall'amichevole col PSG, disputata a Tokyo, il primo agosto. Sarà in Italia solo dopo aver compiuto la missione societaria per esultare, stavolta sì, insieme ai 75 mila cuori nerazzurri di San Siro. Inter, per Zielinski è già pronto il contratto da firmare. Le cifre, uno tira l'altro. L Inter è sempre attenta al mercato dei calciatori in scadenza di contratto. La Juventus ha soffiato ai nerazzurri il difensore portoghese Thiago Gialo, classe 2000 ex Milan, versando 5 milioni di euro nelle casse del Lille. Marotta e Ausilio si consolano prenotando altri due colpi a parametro zero sulla scia dei vari Asamoah, Defray, Kalanoblu, Onana, Enkitarayan e Quadrado. Meditaremi e Piotr Geliski. Per entrambi sono pronti due contratti triennali fino a giugno 2027 con un ingaggio simile. 3 milioni di euro netti a stagione per l'attaccante iraniano, classe 1992, del Porto, circa un milione in più per il centrocampista polacco, classe 1994, ex Empoli e Udinese, del Napoli. In pratica lo stesso stipendio che percepisce oggi dal club del presidente Aurelio De Laurentiis, già informato dall'Inter sulla trattativa in via di definizione. Intanto Inter e Napoli hanno comunicato alla UEFA le nuove liste dei calciatori, utilizzabili nella fase a eliminazione diretta in Champions League. Agli ottavi di finale i Nerazzurri se la vedranno con l'Atletico Madrid del Ciolo Simeone, mentre i campioni d'Italia sfidano i campioni di Spagna del Barcellona. I Nerazzurri hanno sostituito l'infortunato quadrado con il nuovo acquisto Buchanan tenendo fuori sensi, mentre dall'elenco del Napoli è stato escluso Zielinski, che aveva giocato titolare tutte le sei partite della fase a Gironi. Oggi il centrocampista polacco ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione di Mazzarri per il turno casalingo di domenica in campionato col Verona. Bomber a zero subito, spunta un nome clamoroso, un bomber di razza a zero, anche l'Inter potrebbe tenere d'occhio gli svincolati per intervenire in caso di necessità. Dopo la conclusione della sessione di riparazione, il mercato degli svincolati, pieno di nomi suggestivi in ogni reparto, intriga ancora molte squadre di Serie A. E anche l'Inter potrebbe puntare a un vero bomber da prendere a zero. A febbraio, Sánchez e Arnautovic non sono riusciti ancora a dimostrare il loro valore in Nerazzurro. Finora, grazie all'impegno dei due attaccanti titolari, Lautaro e Turam, l'Inter ha saputo comunque ottenere risultati positivi, senza mai andare in affanno. Ma per quanto ancora la Tulla potrà offrire garanzie di qualità e continuità a questi livelli? Un cambio all'altezza in attacco sembra ancora indispensabile, nonostante la decisione della dirigenza di confermare la fiducia in Arnautovic e Sánchez. Col mercato chiuso, qualora fosse indispensabile inserire un nuovo nome in rosa, l'unica possibilità concreta è di cercare un bomber a costo zero. Cioè uno svincolato, in effetti, il mercato degli svincolati è pieno di nomi di lusso, tutti disponibili anche per soli sei mesi. Ellas e Salernitana, per esempio, stanno provando a ingaggiare Costantinos Manolas. Nessuno in Serie A sembra per ora interessato invece a David De Gea, portiere ex Manchester United, che ha già detto no a offerte faraoniche dall'Arabia Saudita per aspettare la proposta giusta fa un top club europeo. Bomber a zero per l'Inter? Tutti i nomi per il possibile colpo. La Lazio ha provato a farsi avanti per Jesse Lingard, anche lui ex Manchester United, lo svincolato è però vicino a trasferirsi in Corea del Sud, per giocare all'FC Seoul. L'Inter potrebbe fare un pensierino per Diego Costa. La punta ormai 35enne, non è più il campione di un tempo, ma come quarta punta potrebbe essere un bel nome. Al Botafogo, in Brasile, Costa ha mostrato evidenti difficoltà atletiche. In 13 partite ha segnato un solo gol. In compenso ha rinforzato la sua fama da bad boy, dentro e fuori dal campo. Fino a tre anni fa, nessuno avrebbe mai potuto metterlo in discussione. Costa era rispettato in tutta Europa come centravanti dalle grandi doti realizzative, molto forte fisicamente, veloce e abile nel gioco aereo. Ora è lento, appesantito e poco ispirato in area di rigore. E nel frattempo, la vacanza in Brasile, lo ha reso ancora più antipatico, per il suo gioco spesso scorretto, le provocazioni in campo e i troppi comportamenti sopra le righe. È senza contratto anche lo spagnolo Santi Mina, ex Celta Vigo. Mina ha rescisso con il suo club storico dopo essere stato rinviato a giudizio insieme all'ex compagno di squadra David Voldar per una bruttissima storia, un reato di violenza sessuale. Lo voleva Pirlo l'estate scorsa, ma i tifosi della Samp si sono opposti. Sempre la Samp potrebbe prendere Okaka nei prossimi giorni. L'ex Roma era già stato accostato come svincolato all'Inter anche nei mesi scorsi. Fiducia nelle riserve e dita incrociate per i titolari. Sembra dunque complicato che l'Inter possa davvero rifornirsi nel mercato degli svincolati. In questo momento bisogna solo sperare che Arnautovic e Sanchez riescano a fare qualcosa di buono. L'Inter ha estremo bisogno di entrambi. È purtroppo inimmaginabile reggere fino al termine della stagione con i soli Lautaro e Turam. E le riserve dovranno fare il loro. A livello di brillantezza Arnautovic era sembrato leggermente più in palla nelle ultime uscite. Contro la Juve ha combinato disastri. Gli manca il gol per sbloccarsi mentalmente. Il Mino avrebbe bisogno di un trattamento speciale. Va posizionato trequartista e lasciato libero di improvvisare.